In occasione del giorno dell'Unità Nazionale della Giornata delle Forze Armate, il Vice Presidente e la Vice Presidente del Consiglio Regionale, Nino Boeti e Daniela Ruffino, sono intervenuti domenica 5 novembre all'ossario di Forno di Coazze per ricordare i 98 partigiani caduti che riposano dal 1945 nel cimitero di guerra del Sacrario. Alla commemorazione era presente anche la Ministra della Difesa, Roberta Pinotti. La pioggia che naturalmente è ben arrivata sembra accompagnare un po' la tristezza che caratterizza ogni anno, due volte l'anno, questo momento di riflessione qui a Coazze. 292 furono i partigiani uccisi, 51 i cittadini fucilati per la presaglia, 262 le case distrutte. Qui si è consumata una delle tante tragedie che hanno accompagnato quei venti mesi di lotta partigiana. La resistenza fu sacrificio, fame e freddo, ma fu anche gioia quella di sentirsi in tanti dalla parte della giustizia e della storia ed è per questo che siamo qui oggi, per parlare di giustizia oltre che della storia della nostra regione. L'ossario di Forno di Coazze è un luogo simbolo per la resistenza. Per me, sindaco di Giaveno, per dieci anni sicuramente un luogo successivo, con tanti ricordi ma anche con segnali importanti legati al dono della vita da parte di tanti capduti, giovani, donne, persone adulti. Oggi, come vicepresidente del Consiglio regionale, sono fiera ed orgogliosa di essere qui, a testimonianza di quel sacrificio e sicuramente con l'immagine di un futuro migliore per i nostri giovani legato alla libertà.